Buon Natale, buon Natale, grazie per il nostro lavoro, buon Natale, buon Natale, grazie, le persone stanno ancora a lavorare anche oggi, buon Natale, buon Natale, buon Natale. alto da punto di vista economico ma non è solo l'ambiente era salutato tutto per altro Anna buongiorno buongiorno grazie per tanto questa è su più livelli la casa e questa è da quanto e quindi dicono tutti i pigmei in un paesaggio milottico è pazzesco ragazzi è pazzesco c'era un Egitto madina in quell'epoca frenata dopo che Augusto vince ad Azio a Tampoli a Tampoli a Tampoli